ore 11.30 prima vera fuga di giornata alla prima salita del tappone si staccano in 5 dopo 42 km dalla partenza in testa un gruppo composto da caicedo armé italiani bais cataldo e villella nessun uomo di alta classifica nella cinquina di fuggitivi il gruppo maglia rosa segue distanziato di 23 secondi mentre ci si avvicina al primo gpm di forcella balbona alle 11 la corsa ha raggiunto zanè dopo aver oltrepassato tiene sia via salire in valdastico dopo i primi 20 km con già un accenno di fuga due già sarcedo subito rientrato festa lampo per la barbiani csf vai zanè passata proprio di fronte alla sede del main sponsor della squadra ora il gruppone compatto attraversa località garziere per entrare a piovene poi salire verso le prime asperità di giornata sotto nel nostro link due momenti sarcedo via bassano tiene via le bassani zanè zona corte e garziere mandateci le vostre immagini dal giro in posta alla pagina facebook o alla casella mail redazione chiocciola eco vicendino punto in chanelle Reid 3 a s listen Grazie a tutti